Fili hominum usquequo gravi corde. Ma se è così, quale sarà per noi la scusa che ci possa coprire se non ci risolviamo davvero qui subito a praticare l'umiltà? Ci par forse ancora difficile o impossibile? Non sappiamo umiliarci? Ebbene, odiamo il profeta, scuoterci col suo grito, Fili hominum usquequo gravi corde. Cuori umani creati a dominare su questa terra, nati per il cielo, come vi condannate a non mirare, a non amare altro che il fango? Sapete dunque avvilirvi, non sapete umiliarvi, sapete umiliarvi dietro appetiti nefandi, al centro tirannico di una passione? Non saprete umiliarvi dietro agli esempi di Cristo al comando d'un Dio? Sapete umiliarvi per cadere? Non sapete umiliarvi per risorgere? Sapete umiliarvi per rendervi lo proprio della natura? Non sapete umiliarvi per rendervi adorni di doni sopranaturali e cari a un cielo intero? Sapete mettervi sotto i piedi degli stessi giumenti? Non sapete essere umili col vostro prossimo, coi vostri simili? Oh cecità, oh superbia, oh follia! Grazie! Grazie!